Sono sette gli indagati dopo il grave incidente di domenica. Lo stabilimento resta sotto sequestro e gli impianti fermi. Rimangono in funziona solo le attività di carico e scarico. Tutta l'area rimarrà chiusa fino a quando i periti, nominati dal tribunale, non avranno concluso le loro analisi. L'azienda, che nega responsabilità per l'incidente, ha proposto ai lavoratori la Cassa Integrazione, proposta che i sindacati hanno rifiutato, restando in attesa dell'incontro fissato con la dirigenza lunedì prossimo. Le richieste sono proprio quello di rimuovere tutto quello che riguarda sostanzialmente lavorazioni a contatto dei carichi sospesi, soprattutto legati ai forni, all'alto calore, eccetera, e poi tutte quelle lavorazioni che prevedono rischi legati proprio alle alte temperature. Queste le richieste che i sindacati fanno alla vigilia dello sciopero e della manifestazione che i lavoratori effettueranno davanti ai cancelli delle acciaierie venete. Altri autori di sciopero dunque con una manifestazione davanti agli stabilimenti per chiedere più sicurezza e portare solidarietà alle famiglie degli operai feriti. Il sacrificio che stanno pagando questi lavoratori non potrà assolutamente essere lasciato all'indifferenza o alla singola cura delle famiglie, ma serve a essere un atto più collettivo di tutti quanti.